Spero vivamente di non prendere fuoco perché ho un tappeto qui vicino a me Quindi mi piacevo le luci e aspetto che finisca cosa che dovrebbe avvenire a breve tipo ora Faccio partire la canzone che abbasserò a breve Ecco, la spengo proprio e niente, io ho tutto Sono Marco, immagino che tutti quelli che guardino questo video lo sappiano Perché non credo, dubito fortemente di essere il prossimo Willwish, la prossima star di YouTube E quindi niente, mi conoscete, sono io e loro sono le mie occhiaie Se volete suggerire un nome, perché non gliel'ho ancora dato, sono unnamed E quindi suggerite nomi per l'occhiaia sinistra e l'occhiaia destra E verranno tutti attentamente vagliati E questo che avete appena visto e che non mi ha fatto morire in un incendio È stato il mio unico contributo ai fuochi pirotecnici di Capodanno È l'1 gennaio 2012, è dell'1.28 Il 2012 è iniziato da circa un'ora e mezza Questo video è per augurare a tutti un buon anno Con il featuring, con le parole, l'ausilio di Emily Dickinson È di questo libro, che uso a mo' di libro delle risposte Al posto di quei libri che solitamente non si comprano mai Ma si sfogliano in libreria per le domande tipo Quest'anno troverò l'amore o anche troverò l'amore a breve O troverò i soldi o troverò cose tipo amore e soldi E niente, vi invito a fare tutti questa cosa Questo può, oltre a essere letteratura, un botto fuori Ma non mi ha ucciso Oltre a essere letteratura, può fare le veci del libro delle risposte Per esempio, questo Emily Questo fastidioso prudito intimo Che mi affligge e troverà presto risoluzione E ci si benda o si chiude gli occhi E si sceglie una poesia a caso E la 1235 in questo caso Like rain it sounded till it curved E si interpreta la risposta Certo con un po' di fantasia Ma anche il libro delle risposte standard Necessita di fantasia E ho selezionato, invece attentamente Non a casaccio Una poesia di Emily Per augurare un buon 2012 E la prendo E Emily ha da dire a tutti noi Per quest'anno Che in italiano è Per fare un prato Bastano un trifoglio Un'ape Un trifoglio Un'ape E un sogno Può bastare il sogno Se le api sono poche Che ricorda per fare un albero Ci vuole eccetera eccetera Ma È stata selezionata Perché su Facebook Da quando sono iscritto Si leggono Ogni anno di questo periodo Cose come Ah 2009 2010 Adesso 2011 Hai fatto cacare Ti schifo Bla 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 E cose simili Lamentele simili E La poetessa Ci dice che Niente Può bastare Reverie Alone will do Può bastare anche solo un Reverie Che è stato Tradotto come sogno Non è propriamente sogno Piccola cosa noiosa Sulla traduzione Free online The free online dictionary Punto com Che è molto utile Uso spesso Adesso non mi vedo più Perché ho aperto la pagina web Ma è meglio così Ci dice anche la lettura delle parole Cosa utile Questa è la lettura American American English Che non si è sentita molto probabilmente Aldo il volume Reverie E inglese e britannico E Uguale Sostanzialmente E Non è proprio un sogno Ma una cosa Più figa Tipo An abstracted state of absorption Uno strato di astrazione O una State of mind Characterized by abstraction Daydream Eccetera eccetera Castle in Spain Non so perché Castellinaria si dica Castellin Spagna Bisognerebbe chiederlo Agli spagnoli Lo faremo Subito Lo chiederò ai miei amici spagnoli Adesso Perché E se Fanno castellinaria O sono gli inglesi Che dicono Maldicenze sugli spagnoli E questo è quanto Quindi Buon anno da me Da Andy Dickinson E Dal mio albero di Natale